Notata di terrore a preganziolo un operaio di 55 anni si è barricato in casa armato di pistole e fucili ha tenuto in ostaggio la moglie fino alla mattina decisivo l'intervento dei carabinieri Si è spento per cause naturali in ospedale a Bassano dove era ricoverato 51 anni di cassolo affetto da una grave distrofia muscolare aveva ottenuto l'autorizzazione al suicidio assistito arrestata per omicidio la nipote dell'anziana di 80 anni che da Asiago era stata improvvisamente condotta dalla donna in Sicilia voleva impossessarsi dell'eredità fatale al cibo somministrato immediata la scarcerazione per Sandro Leva che il nomade è fermato perché è ritenuto l'autista dei rapinatori di Cavallino Treporti per lui solo l'obbligo di presentazione giornaliera dai carabinieri paura ieri sera a Marghera per l'autista di un bus colpito da un appallino che ha mandato in frantumi il finestrino offerendolo per la CGL è un fatto gravissimo La Lega ritira l'istanza di terzo mandato per i sindaci in commissione affossato l'emendamento per i governatori PD e 5 Stelle votano no, contrari anche gli alleati del centro-destra Al via il processo per i test rapidi anti-covid che vede imputati gli ex vertici di Azienda Zero Rigoli e Simionato Intanto il virologo Palù lascia l'AIFA in polemica con il ministro e Crisanti ironizza grande regalo all'Italia Ha battuto un altro record la novantenne padovana Emma Maria Mazzenga Ai campionati italiani indoor, Mastri in corso ad Ancona, corso i 60 metri correndo in 14 secondi e 73 Eccoci, buonasera, ben ritrovati Il TG del Veneto si apre con una notizia di cronaca che ci racconta di una nottata di terrore E siamo a Preganziolo, un operaio di 55 anni, armato di pistole e fucili, si è barricato in casa e ha tenuto in ostaggio per diverse ore La compagna decisivo l'intervento dei carabinieri per liberarla Questa volta mi uccide Parole terribili che una mamma ha scritto alla figlia prima di essere presa in ostaggio dal marito Sono le 22 quando alla centrale dei carabinieri arriva una chiamata Una ragazza chiede aiuto perché la madre si trova in una situazione di pericolo Per tutto il pomeriggio aveva provato a contattarla al telefono ma senza ricevere risposta Fino alla sera quando riesce a sentirla Poche drammatiche parole Aiuto, sono in pericolo, mi vuole uccidere Basta poco all'operatore del 112 per comprendere che non ci sono attimi da perdere La donna, 58 anni, è in casa con il marito, armato e violento Nell'appartamento di Viagorizia a Preganziol dove vivono a pistole e fucili Sul posto arrivano in pochissimo tempo numerose pattuglie dei carabinieri La zona viene bloccata, la strada che porta l'abitazione è chiusa Nessuno può né entrare né uscire Ieri sera io con un'amica dovevo accompagnarla alla sua macchina Lì e purtroppo ci hanno bloccato proprio qui le forze dell'ordine Dicendoci che non potevamo raggiungere la vettura perché c'era uno stato di emergenza E dovevamo tornare in casa e chiuderci in casa e star distanti dalle finestre Alla donna l'uomo ha strappato di mano le chiavi di casa Non voleva che se ne andasse dopo l'ennesima lite Così la vittima ha inviato diversi sms alla figlia chiedendo aiuto Una nottata estenuante e difficile I carabinieri rimangono in contatto con la 58enne attraverso dei messaggi La confortano, le danno la forza Lei è sotto shock, pietrificata dalla paura Sul posto arrivano anche le squadre operative di supporto della 4ta brigata Carabinieri Veneto Ed il negoziatore del comando provinciale di Treviso Che inizia a interloquire con la donna attraverso brevi messaggi Alle 7 del mattino, dopo ore e ore Il negoziatore suggerisce alla donna di cercare di uscire di casa Con la scusa di portare fuori il cane, come ogni mattina È l'unico modo per poter fare irruzione Bloccare l'uomo senza mettere in pericolo la donna Lei ad un tratto esce con il cagnolino È salva I carabinieri la prendono, la portano al sicuro Scatta il blitz Gli uomini del reparto speciale sfondano la porta e bloccano l'uomo È finito l'incubo Questa mattina, prima di recarmi a lavoro Ho visto appunto che scendevano con una persona incappucciata E ho visto che lo caricavano in macchina L'uomo, operaio, totalmente sorpreso dall'azione fulminea Non ha opposto resistenza È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di maltrattamento in famiglia e violenza privata E si profila anche il sequestro di persona Le armi, ben sei detenute per uso sportivo, sono state poste sotto sequestro Un uomo è stato arrestato ad Arabba perché è sospettato di aver percorso la fidanzata Che si trovava in sua compagnia nelle vicinanze del locale La Stube Il fatto è accaduto la sera di San Valentino Un poliziotto ed un carabiniere di stanza ad Arabba per il soccorso o piste Entrambi fuori servizio si sono avvicinati alla coppia per verificare che cosa stesse accadendo La donna che deambulava con difficoltà è stata trovata con evidenti escoriazioni al volto Il compaglio al contrario è apparso in stato di alterazione psicofisica L'uomo si è ribellato ai rappresentanti delle forze dell'ordine Perché nonostante il suo parere contrario avevano richiesto l'intervento del 118 Al culmine della rabbia l'uomo ha rotto il finestrino anteriore della sua automobile A quel punto poliziotto e carabinieri hanno fatto intervenire I carabinieri della stazione di Arabba, i quali a loro volta minacciati ed aggrediti Sono stati costretti a bloccarlo a terra ed ammanettarlo Dichiararlo in stato di arresto per lesioni personali, resistenza ed oltraggio pubblico L'uomo è stato trasferito nel carcere di Belluno È arrivata da poco fa la notizia della morte di Stefano Geller Aveva ottenuto il via libera al suicidio assistito Un uomo che abbiamo conosciuto più volte intervistato È morto nel pomeriggio Stefano Geller, cinquantenne di Cassola, pioniere di tante battaglie in difesa della legge sul fine vita Era affetto da una grave forma di distrofia muscolare che aveva ereditato dalla madre E per primo aveva ottenuto dalla Sanità Veneta l'autorizzazione al suicidio assistito Geller si è battuto fino all'ultimo per poter decidere quando morire Quando dire basta di fronte a una sofferenza fisica e mentale insopportabile Non ho paura della morte ma della sofferenza che la precede, diceva Perché lui amava la vita e sua sorella Cristina affetta dalla stessa malattia e anche lei in carrozzina Geller era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Bassano E morto in seguito a complicanze sopraggiunte alla sua salute C'è l'immediata scarcerazione per Sandro Levac Il nomade fermato perché è ritenuto l'autista dei rapinatori di Cavallino Treporti È stato rimesso in libertà a Sandro Levac Il nomade di 55 anni fermato domenica notte nella sua abitazione di Maserada sul Piave Perché sospettato di aver accompagnato con la sua auto sul luogo della rapina I tre banditi armati che hanno poi fatto irruzione nella casa della famiglia Biondo A Cavallino Treporti Ferendo con un colpo di pistola il figlio 33enne Alberto tuttora ricoverato Il GIP Marco Biagetti al termine dell'interrogatorio di garanzia Ha disposto l'immediata scarcerazione ritenendo non sussistere evidentemente Né i presupposti per la custodia in carcere né per i domiciliari Come aveva sostenuto il suo stesso difensore l'avvocato Andrea Zambon Mi sono opposto all'applicazione di qualsiasi misura cautelare Non ravvisando alcuna esigenza cautelare invocata dal pubblico ministero Per l'Evac dunque è solamente l'obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri Mentre le indagini proseguono per chiudere il cerchio intorno alla banda Il 55enne davanti al giudice ha respinto ogni addebito Lui ha spiegato le ragioni per cui era andato a Cavallino Treporti Ha negato ogni addebito Non c'entra nulla con questa rapina Non sono mai scese persone dalla sua macchina Non sono mai salite persone dalla sua macchina Lui è partito da Maserada È andato a Punta Sabioni Si è fermato in due o tre barche Doveva trovarsi con una persona E dopo di che ha fatto rientro ne ha spresso la propria abitazione Per gli inquirenti procede la procura di Venezia A suo carico ci sarebbero invece gravi indizi È possibile che il quadro si ricomponga con maggiore chiarezza Solo una volta intercettati i materiali esecutori della rapina I quattro avrebbero agito in concorso Sebbene l'Evac si sarebbe limitato a fare l'autista Ma l'avvocato Zambona è convinto che la sua posizione sarà chiarita È tranquillo e sereno anche perché è sicuro di quello che dice C'è una svolta sulla morte di Maria Basso L'ottantenne asiagese ex funzionaria della Farnesina Morta a Catania nel 2022 Ma in circostanze sospette È stata arrestata la pronipote 59enne Avrebbe ucciso la prozia per ricevere un'eredità di 500.000 euro Facendole ingerire del cibo che non avrebbe potuto mangiare Svolta sulla morte di Maria Basso L'ottantenne asiagese ex funzionaria della Farnesina Morta a Catania nel 2022 In circostanze sospette Arrestata infatti dai carabinieri di Acicastello Con il supporto della compagnia di Aciriale Asiago La pronipote 59enne catanese Accusata di circonvenzione di incapace e di omicidio Un vero e proprio progetto criminale Quello della pronipote Secondo lato d'accusa della procura di Catania La 59enne infatti Avrebbe fatto sottoscrivere all'anziana Un testamento pubblico Con cui veniva istituita come unica erede universale E a soli due giorni dalla sottoscrizione dell'atto Ricostruisce la procura La pronipote contravvenendo alle prescrizioni mediche Avrebbe portato fuori a pranzo l'anziana Facendole mangiare cibi solidi A lei vietati Provocandone dopo qualche giorno la morte Per gravi difficoltà respiratorie C'è la soddisfazione che viene portato a termine Un percorso che ha durato più di un anno Nell'ambito della fase delle indagini preliminari Con una grave incriminazione Speriamo ora che la giustizia possa fare il soccorso Per acclarare le responsabilità di questi fatti Che sono molto gravi Che hanno colpito una famiglia Quella appunto dei cugini Basso Soddisfatto Roberto Rigoni Stern Avvocato della famiglia Basso Ma anche sindaco del comune di Asiago A chiedere giustizia Non solo la famiglia Ma anche tutta la comunità isaghese È stato un fatto questo Che ha colpito profondamente gli asiaghesi Perché la signora Basso Peraltro era ospite della casa di riposo Villa Rosa Che è una casa in cui lavorano molti nostri cittadini Che le prestavano assistenza E le portavano conforto Siamo a Padova I vigili del fuoco Non recuperato nella tarda mattinata Il corpo di un uomo nel Brenta Si tratta probabilmente del ladro sfuggito Tre notti fa ai controlli della polizia stradale Dopo due giorni di ricerca andate a vuoto Questa mattina i vigili del fuoco Hanno concentrato le loro attenzioni All'altezza delle chiuse Che si trovano in territorio di 90 Padovana È qui a poca distanza dal punto In cui otto anni fa Perse la vita Rosario Sanarico Il sub della polizia impiegato allora nelle ricerche del corpo di Isabella 90 Che intorno a mezzogiorno i sommozzatori dei vigili del fuoco Grazie all'utilizzo di un sonar Hanno individuato e portato a Riva Il corpo di un uomo Si tratta con tutta probabilità Dell'uomo che martedì notte Era sfuggito ad un controllo della polizia stradale Sorpreso in atteggiamenti sospetti Accanto ad un mezzo pesante In una piazzola di sosta adiacente alla 4 Mentre cercava di rubare gasolio Con un complice che si era dato la fuga lungo l'argine Ed è stato fermato dagli uomini della questura Le ricerche erano partite La mattina seguente all'alba del 20 febbraio A seguirle i vigili del fuoco sul posto Con i sommozzatori, le unità cinofile I droni ed esperti di topografia applicata al soccorso Il corpo dell'uomo, non ancora identificato È stato esaminato dal medico legale Ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria Maestre, accoltellamento al Parco Hayez Gli agenti della squadra mobile di Venezia Hanno fermato uno dei due aggressori È stato fermato un moldavo Per l'accoltellamento avvenuto ieri sera Al Parco Hayez In zona Cipressina a Mestre E ora la squadra mobile della questura di Venezia Sta cercando il complice Anche grazie alle immagini Di alcune telecamere di videosorveglianza del comune Posizionate nei dintorni Questo è il punto in cui il diciottenne È stato accoltellato intorno alle 18 Proprio mentre qui al parco C'erano ancora dei ragazzini E dei bambini che giocavano E qualche passante Il ragazzo di origini russe È stato ferito al torace Dopo aver subito un intervento delicato Durato alcune ore Resta ricoverato in gravi condizioni All'ospedale all'Angelo di Mestre La prognosi è riservatissima E bisognerà attendere ancora delle ore Prima di scioglierla Secondo quanto riferito da alcuni testimoni Il diciottenne sarebbe stato avvicinato Dai due giovani Che gli avrebbero chiesto insistentemente Dei soldi E dopo l'ennesimo rifiuto Da parte sua Uno dei due avrebbe estratto Il coltello per colpirlo Da chiarire se i tre si conoscessero E soprattutto se ci fosse un motivo specifico Alla base della loro richiesta Ma qualcuno che conosce bene la zona Racconta Alla sera il parco diventa a terra di nessuno Dove ragazzi giovanissimi Giovanissimi e non Vengono per fumare o spacciare È stato già segnalato Alla municipalità la situazione Determinate situazioni Attirano determinate persone Che non hanno certo voglia di fare del bene Sono gente giovane Soprattutto dell'est Europa Misto anche con ragazzi italiani Ma tra di loro Fanno sia aggregazione E chiaramente Quello che è successo è Come dire Speriamo sia il finale E non l'inizio Di una situazione non più controllabile Quindi serve un controllo vero Vero nel senso Non un passaggio delle forze dell'ordine Che capisco che siano impegnate al massimo Ma serve una presenza Magari un passaggio a piedi per il parco Poi paura ieri sera per l'autista Di un autobus colpito da un pallino Che ha mandato in frantumi il finestrino Guardate Tragedia sfiorata Ieri sera a Marghera All'altezza dello stabilimento Fincantieri in Via della Libertà Dove un autobus di linea È stato colpito da un pallino di ferro Proveniente da un'auto che gli si è accostata E che ha mandato in frantumi Il finestrino lato conducente L'autista è stato colpito al volto dai frammenti Dimesso dall'ospedale con otto giorni di prognosi Un episodio grave che mette in luce ancora una volta La gestione della sicurezza E su cui è intervenuto il consigliere regionale Montanariello È successo a poche centinaia di metri Da quel maledetto cavalcavia Che tutti ricordiamo a Mestre E a pochi metri da un altro cavalcavia Immaginate cosa sarebbe potuto succedere Se l'autista fosse stato maggiormente traumatizzato Avesse perso il controllo del mezzo È arrivato il momento di mettere in campo Protocolli forti e stringenti Per la sicurezza dei lavoratori E degli autoferro tramvieni in questo caso Solidarietà anche da parte della CGL Che evidenzia ancora come gli autisti Siano da tempo un bersaglio facile Della politica regionale e locale E non accetteremo più Scrivono che qualcuno utilizzi Come capri e spiatori Chi trasporta le nostre vite E le vite dei nostri cari A tal proposito Montanariello esprime Rammarico per la bocciatura Dell'ordine del giorno tempo fa Che chiedeva alla regione di intervenire Affinché le aziende di trasporto pubblico Si costituissero parte civile In caso di aggressioni ai loro dipendenti Che vuol dire che chi aggredisce Non deve più vedersela con un lavoratore singolo Ma deve vedersela con un'azienda Con un'azienda in grado di lottare Lottare, chiedere risarcimento E anche imputarli L'interruzione di pubblico servizio Che è un reatto penale Cosa che il singolo autista non può fare Magari le lesioni sono anche sotto 20 giorni E non si va neanche nel penale Invitare le aziende A dare un messaggio politico chiaro Come quello che doveva dare il Consiglio regionale Di dire che chi aggredisce Un autista, un marinario, un pilota Non la fa franca Perché se la deve vedere con l'azienda Non con il lavoratore È stato un grandissimo errore politico Che avrebbe dato a costo zero Un segnale molto importante Siamo alla politica con lo stop al terzo mandato I due emendamenti della Lega Primo ritirato dalla Lega stessa Il secondo è stato bocciato Stop al terzo mandato L'emendamento salva governatori uscenti Non passa bocciato da una larga maggioranza Presentato dalla Lega Per consentire a sindaci e governatori Di andare oltre il secondo mandato In qualche modo per blindare Zaia in Veneto Così non sarà A far capitolare questa possibilità Partito Democratico Movimento 5 Stelle Noi moderati Ma anche Forza Italia E Fratelli d'Italia Terzo mandato che diventa così Terreno di scontro Di una maggioranza sempre più spaccata Così il senatore e segretario Del Partito Democratico Veneto Andrea Martella Quanto è avvenuto Incide sulla tenuta della maggioranza Incide sui rapporti tra le forze di maggioranza Tanto a livello nazionale Quanto a livello Veneto E questo è in dubbio Era un passaggio delicato E significativo Dal punto di vista parlamentare E insomma l'esito Non credo che si possa minimizzare Una possibilità Quella del terzo mandato Che il Partito Democratico Definisce sbagliata nel merito Non tanto perché siamo contro questo O a quella personalità Ma proprio per un buon funzionamento Delle nostre istituzioni Che hanno bisogno di alternanza Di ricambio E di non avere un'eccessiva concentrazione dei poteri Alleanza di governo Che per Martella diventa Una vera e propria guerra di poteri Sul posizionamento politico Rispetto agli assetti futuri Dal canto suo Fratelli d'Italia Con il coordinatore regionale Luca De Carlo Lo aveva chiarito fin dall'inizio Le posizioni dei partiti Erano molto chiare L'unica a favore Era la Lega Adesso mi auguro Che si possa tornare A parlare Dei problemi Degli italiani Ma anche dei veneti Perché credo Che sia più importante Concentrarsi sui problemi Dei veneti Che su quello Di due o tre O quattro governatori Se l'amendamento Salva governatori Non passa Quello per i sindaci Dei comuni Oltre i 15 mila abitanti È ritirato dalla stessa Lega Ancora prima di essere votato Così Mario Conte Presidente Anci Al suo secondo mandato Da sindaco Ne prendiamo atto Dispiace per i veneti Dispiace per i trevigiani Che non dico Devono rieleggere Conte O devono rieleggere Zaia Ma quantomeno Tra le possibilità di scelta Avrebbero avuto In comune di Treviso Conte In regione Veneto Zaia Così non sarà Perché qualcun altro Ha deciso Che non si può fare Prendo atto Sono le dichiarazioni Di Luca Zaia Che si smarca Questa mattina Da ogni possibile polemica Lasciando ai suoi La difesa della misura Ed è cominciato oggi Il processo Sui tamponi rapidi Usati Durante la seconda Andata di Covid Acquistati Dalla regione Veneto Processo che vede Imputati Roberto Rigoli Ex direttore Delle microbiologie del Veneto E Patrizia Simionato Prima udienza del processo Sui tamponi rapidi Acquistati dalla regione Veneto E utilizzati per lo screening Durante la seconda Andata del Covid A fine del 2020 Imputati Il professor Roberto Rigoli Ex responsabile Delle microbiologie del Veneto E la dottoressa Patrizia Simionato Che all'epoca Era direttore generale Di azienda Zero I due imputati Rinviati a giudizio Un anno fa Non erano presenti in aula E durante l'udienza Gli avvocati della difesa Hanno sollevato La questione di nullità Del decreto Che disponeva al processo Perché contenente La vecchia imputazione Antecedente Le modifiche fatte In sede di udienza preliminare Inoltre la difesa Del professor Roberto Rigoli Ha sollevato il dubbio Sulla chiarezza Della tipologia Di accertamenti Che il pubblico ministero Contesta al microbiologo Di non aver fatto Si parla di accertamenti Tecnico Clinico Scientifici Studio che secondo La difesa Rigoli Non era tenuto a fare In quanto i tamponi Della casa farmaceutica Abbott Erano certificati CE IVD Quindi già verificati Da enti preposti E dunque Già in commercio A Rigoli Il pubblico ministero Contesta una mail Inviata nell'agosto Del 2020 Ai vertici di Azienda Zero Nel quale il microbiologo Afferma di aver solo Verificato le caratteristiche Del prodotto L'indagine Sui tamponi rapidi Era partita da un esposto Fatto dal professore Andrea Crisanti Oggi senatore PD Che contestava L'attendibilità Dei test Sulla base Di un approfondimento Che va condotto Successivamente All'avvio Dell'utilizzo Dei tamponi antigenici Da parte Della regione Veneto Per lo screening Covid Il giudice Nella nuova udienza Prevista per il prossimo 21 marzo Deciderà se accogliere O meno la richiesta Fatta dalla difesa Di Rigoli E simionato E in caso affermativo Le carte delle indagini Torneranno in procura E verrà decisa Una nuova udienza Preliminare E così I tempi del processo Si allungano ancora Con il rischio Di prescrizione Del reato Sanità Giorgio Palù Virologo Si è demesso Dalla presidenza Dell'agenzia italiana Del farmaco AIFA Trevigiano di origine Lungo docente Della facoltà di medicina Di Padova Di cui è stato anche Preside Palù Ha spiegato Che dopo un'attenta Meditazione E la mancanza Di sintonia Con il ministro Della salute E l'assenza Di risposte Dal governo Lo hanno costretto A dare le dimissioni Il messaggio È stato rivolto Anche ai consiglieri Del CDI E ai direttori Dell'ente Regolatorio Nel corso Di una riunione Informale Le reazioni Alle dimissioni Di Palù Non sono tardate A arrivare Le prime Quelle di Andrea Crisanti Che Palù Ai tempi del Covid Aveva definito Zanzarologo Ringraziamenti Invece per il suo Lavoro All'AIFA Arrivano dal governatore Del Veneto Luca Zaia Che ha detto La sua professionalità Di alto livello Virologo Scienziato È stato uno Dei riferimenti Che ci ha permesso Di affrontare Il Covid Si lavora Senza sosta Per rispettare Il cronoprogramma E raggiungere Nei tempi Gli obiettivi Del piano olimpico Così La presidente Di Simico Verona Vecchi E il neo Amministratore delegato Fabio Saldini Al termine Del sopralluogo Tecnico Della delegazione Del CIO Ieri a Cortina Per verificare Lo stato di avanzamento Degli interventi Previsti Dal piano Delle opere Olimpiche Simico Ha rassicurato Il CIO Sulla nuova governance Della società Infrastrutture Formata da persone Con uno spiccato Profilo tecnico Elemento Che consentirà Di dare Un'ulteriore Accelerazione Ai progetti In chiusura Ha battuto Un altro record La novantenne Padovana Emma Maria Mazzenga I campionati italiani Indoor Master In corso Ad Ancona La runner Oggi è migliorato Il risultato Sui 60 metri Donna Nella categoria Over 90 Correndo in 14 73 Battendo i 15 14 Della canadese Olga Coltelco Il 14 gennaio Scorso A Padova La novantenne Più veloce Del mondo Aveva sfondato Il record mondiale Nella sua categoria Correndo i 200 metri In poco più Di 54 Solo l'inizio Di una stagione Che aveva annunciato Potrebbe portare Nuove soddisfazioni Ad Emma E alla fida Al Veneto Per cui Ringraziamo il video Che avete visto Mostrando Girato da Rosa Marchi Ed è tutto Per questa edizione Del telegiornale Del Veneto Come sempre in chiusura Siamo alle previsioni Del tempo Grazie Per essere stati In nostra compagnia Arrivederci Cooperativa Agricola Volpago Offre carni fresche E selezionate Di prima qualità Senza uso di antibiotici Direttamente dagli allevamenti locali Dei nostri soci Allevatori Bentrovati al meteo Perturbazione atlantica Ancora in azione Sul nostro territorio Il dettaglio Di venerdì 23 febbraio Sul Veneto Tempo spiccatamente instabile Con precipitazioni Anche intense Migliora poi Nella notte Tra venerdì e sabato Neve sopra i 1000 1300 metri Sulle Dolomiti Temperature stazionarie O in lieve locale variazione Minime tra 4 e 6 gradi Massime tra 8 e 13 Ci spostiamo ora Sul Friuli Venezia Giulia Anche qui cielo coperto Con piogge diffuse Anche intense Sulla zona montana Moderate verso la costa Quota in neve In genere oltre i 1100 1500 metri Temperature minime Tra 5 e 8 gradi Massime sui 10-12 gradi Infine diamo uno sguardo Al Trentino Alto Adige Dove fino al primo pomeriggio Ci saranno precipitazioni Diffuse e persistenti Poi migliora Temperature minime Sui 2 gradi Massime intorno Agli 8 gradi All'incirca Dal meteo è tutto Vi auguro un buon proseguimento In nostra compagnia Cooperativa Agricola Volpago Offre carni fresche E selezionate Di prima qualità Senza uso di antibiotici Direttamente dagli allevamenti locali Dei nostri soci allevatori Vi auguro un buon proseguimento